Avete fatto un'indagine come arco consumatori sul collocamento Pescara-Roma in Pullman da parte dei maggiori vettori della nostra regione, cosa è emerso da questa indagine? Prima di tutto che il servizio è giudicato complessivamente di buona qualità, secondo che a prendere questi autobus è prevalentemente un pubblico giovane, maggioranza donne, istruito e quindi chiede servizi innovativi, quindi chiede la possibilità del wifi, chiede la possibilità di lavorare con internet sull'autobus, chiede la ricarica dei cellulari e poi altri servizi aggiuntivi eccetera, ed è tutto sommato anche al limite disponibile a pagarsi dei servizi in più. Però è necessario armonizzare gli orari con la possibilità da parte dei romani che sono in prevalenza quelli che vengono su Pescara rispetto ai pescaresi che vanno su Roma e di armonizzarla con l'uscita per esempio degli spettacoli, per cui da Pescara si vuole andare a vedere il teatro a Roma oppure da Roma si vuole partecipare a un evento a Pescara, è necessario armonizzare questa cosa. C'è un problema sulla stazione di Pescara degli autobus perché è assolutamente inadeguata sia per la sicurezza sia sicurezza stradale perché è un piazzale pieno di pozze d'acqua dove circolano tutti e la sicurezza per i pedoni è veramente molto grande, quindi non c'è vigilanza. E qualità anche all'interno della stazione per le informazioni che vengono date, per l'accoglienza che spesso non è adeguata. Abbiamo consultato 500 persone, 500 utenti che viaggiavano con noi sull'autobus. Quindi complessivamente diciamo che la situazione è abbastanza buona, adesso la nuova legge ci consente di sederci a un tavolo obbligatoriamente con le aziende, stabilire insieme le nuove regole del gioco e avere un tavolo di conciliazione dove l'eventuale contenzioso può essere risolto in modo bonario.